Cosa è la sindrome di Tolkien-Die? La sindrome da Tolkien-Die è una sindrome piuttosto rara che si verifica dopo un trauma cranico. Subito dopo l'infortunio, e possibilmente per diverse ore dopo, una persona sembra a posto. Potrebbero non mostrare segni di commozione cerebrale o emorragia cranica e potrebbero parlare e non avere difficoltà a camminare o avere altri sintomi di danno neurale. Tuttavia, mentre la condizione progredisce, la persona diventa improvvisamente molto peggio e il danno a questo punto può essere troppo significativo per curare. In questi casi, le persone passano dal parlare e sembrano a posto, a coma o in coscienza, da cui potrebbero non recuperare. La morte cerebrale totale può verificarsi, come è successo nella tragica morte dell'attrice Natasha Richardson nel 2009, dopo quello che sembrava essere un'infortunio alla testa mentre Richardson stava sciando. In genere, quando si sospetta una lesione cerebrale, il modo migliore per escludere potenziali complicazioni fatali è eseguire una tomografia assiale compoterizzata o un'attacca del cervello. Questa tecnica di scansione avanzata è in grado di identificare se le aree del cervello sanguinano o se si è formato un qualsiasi tipo di coaguli di sangue che potrebbe causare la morte dei tessuti cerebrali. Tuttavia non è sempre chiaro quando una scansione CAT debba essere eseguita. I medici non eseguono abitualmente queste operazioni per lesioni alla testa relativamente minori, specialmente quando una persona sembra stare bene, il che potrebbe provocare la sindrome da colloquio e morire in una percentuale molto piccola della popolazione. Alcune persone sono più a rischio per la sindrome da Tolkien-D. Le persone che assumono fluidificanti del sangue possono avere ferite alla testa lievi che causano sanguinamento che richiede diverse ore per manifestarsi. Tuttavia, poiché la maggior parte di queste persone parla, può riferire che prendono farmaci che potrebbero metterli a maggior rischio di emorragie cerebrali lente. Pertanto, è più probabile che venga eseguita una scansione CAT per escludere questa condizione. Nella maggior parte dei casi, il tipo di lesione cerebrale che si verifica nella sindrome da Tolkien-D è chiamato emorragie epidurale o ematoma epidurale. Il cervello è separato dal cranio da quella che viene chiamata dura madre e quando si verifica una lesione cerebrale, il sangue può fuoriuscire nello spazio tra la dura madre e il cranio. Un'abbondanza di perdite può comportare una compressione del cervello e, in definitiva, la morte cerebrale. Un segno distintivo della sindrome da discorso e dado è associato all'ematoma epidurale. Questo è chiamato intervallo lucido. Forse subito dopo l'infortunio, una persona potrebbe perdere conoscenze e quindi riacquistarla e sembrare a posto. In realtà, non sono così e dovrebbero avere una scansione CAT per escludere un'emorragia cerebrale. Errare l'intervallo lucido per il benessere è ciò che generalmente porta alla morte da questa forma di ferita. Se questo intervallo lucido viene diagnosticato in modo appropriato, la chirurgia cerebrale per fermare l'emorragia e rilasciare la pressione dall'accumulo, aumenta significativamente il tasso di sopravvivenza e la maggior parte delle persone, che vengono diagnosticate precocemente sopravviverà a questa lesione cerebrale e farà un completo recupero.